4 giugno 2021, 43 anni e un giorno. Oggi si va a Lido di Noto, Noto Marina. Questo è il mio regalo per te. Ci vediamo dopo, fai la chiusura. E allora amici, non era Lido di Noto, ma era qui a Cala Bernardo. Stiamo entrando nella stanza che credevo di non aver prenotato, invece ho prenotato. Ecco qui, entriamo. Questa è la stanza. È l'ora che ho sistemato tutto prima che entravo io. Ha fatto bene. E questa è la nostra stanza. Con il letto com'era? Baldacchino. Quante cose nuove che imparo io con le mie ragazze. Abbiamo un armadio di quello proprio grande. Facciamolo vedere, apri. Questo è l'armadio. Abbiamo anche il frigo. Frigo. Se qualcuno vuole venire stasera, solo donne naturalmente, vuole dormire a Quidano. Vediamo. E vabbè, non c'è nessuno dietro, non si sa mai. E questo è il bagno. Bellissimo. È bello, sì. Il letto è comodo. Adesso lo proviamo con le spalle. Abbiamo il bidet, amici americani. Venite, avete il bidet. Guarda che doccia grande. Possiamo fare una doccia in due. E possiamo fare colazione. Possiamo fare anche colazione, qui. Colazione. Guarda, che bello. E di fronte a noi abbiamo anche il mare. Adesso la prova. Letto. La prova. Letto. 3, 2, 1. Oh, bellissimo. Ma che bello. È memory foam. Adesso andiamo in spiaggia. Sì. Andiamo in spiaggia e vediamo se posso far volare il drone. A dopo. Stiamo uscendo per andare per la prima volta nella spiaggia di Cala Bernardo. È la prima volta che andiamo in questa spiaggia, no? Non sappiamo com'è, com'è, com'è. Comunque, vediamo. Sorpresa, sorpresa. A dopo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E siamo qui a Lido di Noto. Sono quattro, tre autobar. Uno, uno che è lì, uno che è qui e un altro che è lì. E il nostro amico ci vuole fare mangiare le crock. Non le ciabatte, ma non lo so che cos'è. Adesso lo vediamo. Ciao. Allora, questa qui è la crock, praticamente è la pasta della pizza con dentro tonno, cipolla, svizzera. Buona, 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 bella la piena. Allora, amici, siamo qui a casa di Fulvio e guarda qua se ci sta regalando. Ciao, Fulvio. Allora. È caldo. Ah, che bello. Buonì. Ah, che bello. Oh che bello Ok ragazzi Il nostro amico Fulvio ci sta regalando Questa giornata Adesso se ne vai noi dobbiamo fare No Oh che bello Tutto a posto Solo che abbiamo la pancia piena di i croc Oh guarda qui come si illumina Guardate ragazzi Guarda che colori Wow Abbiamo anche lo schermo Qui della tv Ti puoi guardare la televisione Oh Che birra è Corona Grazie Ma cosa vuoi più della vita ragazzi Salute Auguriamo questo Il mio regalo Il regalo di Fulvio Dai Salute Aspetta Com'è Buona salute Salute Fulvio Grazie Fulvio Per questa Sarata Ciao E' finita questa giornata Si sente Eleonora che sta facendo la doccia Ok amici Ci vediamo domani Perché credo che domani Andiamo a Fontane Bianche See you tomorrow Ciao 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 Grazie a tutti.